ciao sono michela mitrani e questo è credi crea il podcast che vi aiuta a produrre pubblicare e pubblicizzare indipendentemente le vostre opere in questo podcast intervisto creatori imprenditori ed influencer allo scopo di fornirvi le risorse e gli strumenti necessari per diffondere le vostre idee e vendere i vostri prodotti oggi ospito qui a credi crea marina in orta marina è una sociologa di formazione con un master in comunicazione della scienza nella sua vita è stata bibliotecaria redattrice impiegata e ricercatrice ha pubblicato vari racconti e articoli valutato manoscritti per una casa editrice e seguito corsi di scrittura di editoria e di giornalismo è curatrice dello spazio web my way blog dove scrive di psicologia positiva creatività mindfulness e crescita personale ha pubblicato indipendentemente il best seller la rana bollita con ottimi risultati in termini di vendite marina carissima benvenuta a credi crea e grazie per averci dato un po il tuo tempo ciao michele e grazie a te per avermi per avermi invitato a questa chiacchierata carissima sono sempre stato un fan del concetto di community della concetto di comunità delle persone insomma che seguono una persona o il prodotto di questa persona o l'idea di questa persona secondo me un'idea un prodotto non può avere davvero successo senza una community di persone che ruotano attorno a questa persona slash idea ora la primissima domanda che ti vorrei fare è chiederti prima se potresti spiegarci come è nato questo tuo blog my way blog e per quale motivo hai deciso di creare questa community virtuale sì allora io ho cominciato a scrivere su my way blog nel 2014 e in tutta sincerità in quel momento non avevo le idee chiarissime su che cosa stavo cercando di fare io ho sempre amato molto scrivere come poi hai detto tutto anche all'inizio ho scritto molti racconti ho vinto qualche concorsino ho fatto qualche pubblicazione però poi a un certo punto negli anni non ero riuscita a dare veramente corpo e continuità a questa mia passione per la scrittura è arrivato a un certo punto la cosa che io volevo fare era riprendere a scrivere questo era il mio obiettivo principale e ho deciso di lavorare sul blog perché il blog in quel momento mi offriva delle mi offriva delle opportunità il blog è uno strumento estremamente flessibile che ti puoi autogestire puoi partire anche senza avere appunto le idee chiarissime su cosa vuoi fare perché poi puoi un po' correggere il tiro in corsa e mi dava un po' la possibilità di elaborare un pochettino di contenuti di metterli online e di vedere un attimino che feedback c'era se le cose di cui parlavo interessavano alle persone se c'era un ritorno era l'ho visto un po' come un laboratorio come una come la possibilità di fare una sperimentazione che avesse come centro soprattutto la scrittura questa mi sembra una cosa molto molto interessante sempre esplorando il concetto di community sono andato a sbirciare un pochino le social media magari mi sbaglio ma ho visto la tua pagina facebook di my way blog cose correlate che aveva oltre 10.000 likes ora volevo proprio cercare di battere questo punto qui in termini di community vedi che persone sono state interessate al tipo di argomento che tratti sul tuo blog e se sì per quale motivo allora sì io nel mio blog scrivo articoli abbastanza lunghi e approfonditi su argomenti che ruotano appunto intorno alla alla psicologia divulgativa alla crescita personale alla creatività sono argomenti attorno ai quali c'è un certo interesse io questo lo sapevo nel momento in cui ero partita ci sono altre esperienze online ovviamente che trattano questi argomenti io diciamo che ho cercato di trovare la mia voce la mia specificità facendo una serie di sperimentazioni come ti dicevo prima alla fine mi sono trovata appunto a mio agio a trattare questi argomenti in un certo modo io do sempre un taglio un po personale ai miei articoli parto sempre magari da un'esperienza mia e poi la ricollego a dei temi un pochettino più ampi che magari approfondisco studiando dei libri e pian pianino ho visto che questa questa formula funzionava cioè ho lavorato su dei temi attorno ai quali c'è interesse però ho cercato un po di dargli un taglio un taglio personale ho cercato la mia la mia voce cosa che per esempio all'inizio non c'era alcuni degli articoli che io ho scritto i primi adesso se li rileggo mi sembrano strani perché appunto non sapevo esattamente dove volevo andare a parare però lavorandoci ho trovato la mia formula e ho visto piano piano che questa formula funziona perché anche se adesso il mio blog non è che faccia centinaia di migliaia di visite però comunque attorno a my web blog si è creato un bel gruppo di persone che che mi seguono a loro piacciono i consigli di lettura che do piace il livello di approfondimento il fatto che i miei articoli sono sempre molto documentati e piace anche questo mix tra appunto il parlare di me e poi invece riportare le cose su un piano più più generale questa è una cosa interessante mentre parli sto prendendo dei appunti addirittura hai citato la tua voce che hai sviluppato e ti ha aiutato a costruire diciamo così un volume migliore perché ovviamente le persone erano più interessate articoli documentati e articolati un'altra cosa che si fa sempre meno spesso adesso magari uno scrive un piccolo postino lo mette là se lo scrive magari va su facebook e scrive un post e poi facebook magari non è che hai interesse a pubblicizzarti questa cosa quindi la tua voce gli articoli documentati il fatto che pian piano hai costruito una comunità un following di persone interessate a quello che stavi dicendo e proprio da qui carissima voglio partire per farti la prossima domanda restiamo nell'argomento community ora sei partita in piccolo hai creato questo blog all'inizio non sapevi esattamente cosa fare ma pian piano si è riuscito a trovare una direzione ora siamo arrivati al punto in cui my way blog è strutturato sai che cosa dire sai come dirlo con la tua voce insomma e hai creato questo following di persone che ti seguono che sono interessate a quello che stai dicendo ora credi che questo spazio web ti abbia aiutato in termini di visibilità quando si è trattato di pubblicare il tuo lavoro la rana abolita insomma credi che abbia aiutato questo tuo libro ad emergere e se sì in che modo carissima ma io credo di sì assolutamente sì un deciso sì proprio senza dubbio un sì capitale esatto con le lettere maiuscole no assolutamente sì io mi ha aiutato perché intanto nel momento in cui io avevo il libro e lo dovevo lanciare io avevo già un piccolo pubblico a cui proporlo io adesso nel libro parlo di una mia vicenda personale perché io ho sofferto di disturbi d'ansia con attacchi di panico e ho deciso di venire fuori con questo libro e di parlarne perché questi sono argomenti abbastanza abbastanza delicati abbastanza difficili da trattare però io diciamo che già sapevo che stavo andando a parlare comunque di un tema che coinvolgeva molte persone però il problema è che anche se tu non dico che sia il mio caso però anche se tu scrivi un libro bellissimo su un argomento che interessa a molti se nessuno sa che quel libro c'è è come una goccia nel mare si perde io grazie al blog avevo già un pubblico a cui proporlo adesso io in quel momento avevo una mailing list forse di 800-900 persone adesso vado un pochino a memoria che erano comunque persone che si erano iscritte al mio blog che leggevano i miei articoli magari non tutti però insomma bene o male sapevano chi ero e questi sono stati il mio primo pubblico io il libro l'ho proposto prima a loro e quindi poi sai un po' quindi le prime vendite le ho fatte un po' come le fanno tutti tra gli amici, i parenti e le persone che ti conoscono però io avevo già in più adesso io non le so quantificare però magari nella prima settimana un 30-40 persone che già mi seguivano che erano interessate e che quindi erano già disposte a comprare il mio libro non avevano bisogno di conoscermi perché già mi conoscevano e questo è stato importante nella fase di lancio e poi è stato importante ed è importante tuttora perché in realtà il blog e il libro si rafforzano la vicenda c'è chi arriva al blog perché ha trovato il libro su Amazon e c'è chi si compra il libro perché ha letto il blog c'è chi sente parlare del libro e mi va a cercare e se mi cerca mi trova mi trova una presenza online trova degli articoli che può leggere può farsi un'idea di come scrivo di come la penso di quali sono gli argomenti che tratto trova un indirizzo di mail a cui può scrivere al quale io rispondo e quindi io in qualche modo ci sono e quindi in questo modo il blog e il libro si rafforzano un po' a vicenda fanno parte tutti dello stesso modello che in qualche modo definisce la mia presenza io non credo che sarebbe andato così il mio libro se non ci fosse stato il blog a fargli da supporto ti volevo chiedere a questo punto quando è stato pubblicato esattamente questo libro giusto per contestualizzare? a giugno del 2017 giugno del 2017 quindi diciamo un annetto dai su sì e tu mi dicevi che il libro ha venduto circa 2500 copie nel momento in cui stiamo parlando? sì sì al momento in cui stiamo parlando ha venduto 2500 copie e sono tutte copie vendute perché io non ho fatto promozioni gratuite quindi sono proprio tutti acquisti hai utilizzato KDP Select oppure neanche quello? sì mi sono iscritta e ho reso il libro disponibile sul Kindle Unlimited solo a gennaio però esatto a gennaio da gennaio ad adesso però adesso io le pagine lette non le ho incluse nel conto 2500 sono proprio le copie vendute tra cartaceo e le book spagliate interessantissimo sì e ti volevo chiedere tu mi dicevi parliamo proprio un pochino di più di questo libro il lancio tu hai notato che c'è stata una spike nel senso c'è stata un enorme afflusso di persone che lo compravano che l'hanno comprato immediatamente quindi che ne so magari hai fatto centinaia e cinque centinaia di copie vendute il primo mese oppure è stata una cosa che si è diciamo così veramente nutrita nel tempo la domanda che insomma vorrei farti è il best seller è diventato un long seller? oppure vuoi fare qualche altro tipo di annotazione a riguardo? perché in un anno queste 2500 copie saranno state distribuite in modo diverso sì 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 assolutamente no e allora io non ho avuto un'impennata di vendite ho venduto come ti dicevo prima forse 40-50 copie nei primi dieci giorni tra persone appunto che mi conoscevano o direttamente o tramite il blog quindi scusa se ti interrompo queste come citavi tu sono amici conoscenti più quegli 800-900 persone iscritte alla tua mailing list giusto? sì esatto esatto la combinazione di questi due fattori e poi no il libro è cresciuto piano piano e io sto vendendo di più adesso rispetto a un anno fa wow quindi questa cosa mi fa ben sperare perché io spero che il mio libro diventi un long seller nel senso che spero che continui a vendere però sì io ho notato che c'è stato un andamento diciamo tra costante barra in crescita negli ultimi mesi è stato in crescita decisamente in crescita anche grazie al fatto che Amazon nel mese di maggio lo ha inserito nell'offerta del mese quindi Amazon ti ha aiutato a promuoverlo recentemente insomma sì 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 mi ha aiutato perché lo ha inserito nell'offerta del mese di maggio io in maggio ho venduto molte copie di Kindle e poi lo ha anche inserito nell'offerta Prime Reading per cui il mio libro adesso si può leggere gratis per chi ha l'abbonamento Prime e questo stranamente nel mio caso ha portato anche a un aumento di vendite io non so esattamente questo fenomeno a che cosa è dovuto però io da quando ho avuto la promozione di Amazon e da quando il libro poi è stato inserito in Prime le mie vendite sono aumentate certo e tu non è che hai pagato per questa promozione di Amazon? no no assolutamente no no Amazon sono è Amazon che decide se inserirti o no in queste promozioni ti manda una mail te lo chiede vuol dire che venderà per quel mese il tuo libro a un prezzo ribassato quindi ovviamente ti dà poi delle royalties ribassate perché lo danno in base al prezzo di vendita però lo diffonde però lo diffonde perché ha un servizio di mail dedicato interessantissimo quindi giusto per spiegare meglio agli ascoltatori è da Amazon che se vede che ha un certo tipo di interesse perché non è che propone questa cosa a tutti vogliamo precisare la stanza qua solo a certi libri che hanno riscosso un certo successo anche prima propone questo tipo di promozione di cui tu ci stai parlando giusto Marina? sì 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 esattamente esattamente così sono loro che probabilmente in base all'andamento in base alle vendite in base alle recensioni ti contattano e ti chiedono la disponibilità per fare questa promozione quindi questo voglio sottolineare 2500 copie vendute di un libro che non è un romance o un giallo no stiamo parlando giusto lo dicevamo anche prima di un libro che è completamente diverso da diciamo così il genere che discuto anche qui a Criteria che vendono diciamo così organicamente un pochino di più è un classico libro diciamo non fiction come diremo qui in anglosassolambia secondo te questa cosa qui aggiungi ancora più valore al tuo tipo di successo? ma guarda io posso dirti questo che secondo me scrivere non fiction in realtà è un'opportunità più che un limite mi spiego è vero se tu scrivi per esempio romance adesso va bene c'è la moda cavalchi l'onda quindi d'accordo vabbè ti sei messa a scrivere non fiction hai parlato di ansia è una storia autobiografica quindi sembra che vai verso sembra che sia più rischioso fare una scelta di questo tipo diciamo però secondo me non è del tutto vero perché la saggistica la non fiction hanno il vantaggio di avere un pubblico magari più ristretto però più definito e più chiaro tu un romanzo con un romanzo chi ti rivolge ti rivolge a tutti al pubblico dei lettori generico se tu scrivi un saggio su un certo argomento e sai che attorno a quell'argomento c'è dell'interesse tu è come se avessi già una fetta di pubblico chiara hai un target a cui ti stai riferendo perché è sicuramente più ristretto però è sicuramente interessato a quello che hai da offrirgli hai capito sono un po' le due facce della medaglia io per esempio quando vedo così tanti autori che vogliono emergere che vogliono scrivere vedo che tutti si buttano automaticamente sulla narrativa ma lo capisco perché viene anche a me anch'io avrei ho iniziato così ma in realtà tutta la saggistica la non fiction tutte le cose che in qualche modo vanno a toccare i problemi che hanno le persone o vanno ad affiancarsi ai loro hobby ai loro interessi sono in realtà una grande risorsa certo è più difficile scrivere non fiction per certi da un certo punto di vista perché devi studiare perché ti devi documentare perché c'è dietro un lavoro forse forse maggiore rispetto alla narrativa poi dipende perché anche la narrativa non è facile però secondo me è un'opportunità io la vedo come un'opportunità guarda questo discorso che tu fai io lo quoto in pieno sono ovviamente un grande sostenitore della narrativa ma saggistica non fiction è una cosa che interessa anche a me io sto a pubblicare fra qualche giorno un libro di narrativa che parlerà della mia esperienza come autore indipendente in questi 5 anni l'ho chiamato Destinazione Self Publishing e credo che voglia fare una cosa simile a quella che hai fatto tu io ho cercato di scrivere un libro che ho visto non c'era lì fuori insomma un autore indipendente che scrive della sua esperienza di come costruire una piattaforma online per vendere un prodotto e come pubblicare indipendentemente le loro storie io non ho visto nessuno che ha fatto una cosa del genere ma l'ho fatto con un certo tipo di pensiero nella back of my mind nella mia mente c'era sempre questa cosa che mi diceva guarda che non è un pubblico enorme guarda che stai scrivendo su una sottocategoria di una sottocategoria di una sottocategoria che sarebbe in realtà il self help il memoir però ho sentito che sia una cosa che possa aggiungere valore che possa aiutare altre persone nel percorso di autore indipendente e per questo motivo ho deciso di pubblicare questo libro Destinazione Self Publishing vedremo come andrà a finire perché sarà pubblicato fra una settimanella però sicuramente per tornare a quello che dicevi tu Marina ho cercato insomma di farti questa domanda proprio perché volevo far capire agli ascoltatori che quello che dici tu cioè trovare la propria nicchia è molto ma molto ma molto ma molto importante scusami se ho detto questo molto molte volte però è davvero molto molto importante perché la nicchia che ti fa vendere 2500 copy non è più una nicchia è un'enorme risorsa che può essere utilizzata e mi fa davvero piacere carissima che sono riuscito a intervistarti e che tu abbia scerato la tua esperienza atipica di autore indipendente che fa un percorso molto diverso dalla maggior parte di autori indipendenti che ho intervistato che vende di più dopo che trasforma un best seller in un long seller perché possiamo dirlo adesso non stiamo più parlando di hai pubblicato questo tuo libro in qualche settimana o qualche mese fa stiamo parlando di ormai un anno più di un anno quindi è diventato effettivamente un long seller sta vendendo più copie adesso di quando le vendeva prima questa è una cosa concetti di cui non ho mai davvero parlato in questo podcast ma sono davvero davvero contento Marina che tu li abbia scovati che ne abbia parlato e che abbia condiviso la tua esperienza in merito purtroppo carissima il nostro tempo sta per scadere però prima di lasciarti andare volevo chiederti se hai progetti in cantiere o magari dei libri addirittura d'arrivo allora sì io di progetti in cantiere ne ho fin troppi il mio limite è il tempo purtroppo come credo quello di tutti adesso ho ho cominciato a pubblicare una serie di piccole guide che ho chiamato i quaderni di My Way Blog che sono dei piccoli librini di esercizi e vorrei ho pubblicato il primo è uscito circa un mese fa ed è dedicato agli esercizi per calmare la mente e poi a distanza di forse due tre mesi vorrei pubblicarne altri su altri su altri temi e e niente sono un po' dei libri che fanno un po' fanno un po' da completamento alla rana bollita nella rana bollita c'è la mia vicenda personale in questi ci sono gli stessi temi che io ho toccato nella gli stessi temi che io ho toccato nel libro però trattati da un da un punto di vista da un punto di vista diverso insomma con questi esercizi pratici di meditazione o esercizi di psicologia positiva e questo è quello che sto facendo adesso poi ho in mente di fare altro ma chi vivrà si vedrà esatto senti carissima dove possono trovarti i nostri ascoltatori allora mi trovano sul mio blog che l'abbiamo detto è www.mywayblog.it dove potete trovare anche l'email tanto io comunque ci sono rispondo sempre rispondo a tutti e poi sono presente su facebook sia con il mio profilo personale che con la pagina del blog carissima io voglio ringraziarti per il tuo tempo e come faccio con ogni singolo ospile di questo podcast augurarti un titanico in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi progetti futuri io ti ringrazio molto Michele è stata veramente una è stata proprio una bellissima chiacchierata sono molto contenta e saluto tutti quanti e spero di avere detto appunto cose utili che possano poi servire a tutti i nuovi autori carissima non hai detto cose utili hai detto perle di saggezza e sarà mio interesse diffondere queste perle di saggezza nel maggior modo possibile quando avremo la possibilità di diffondere il contenuto di questa bellissima conversazione io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che si hanno tratto valore da questa bella intervista con Marina possono recensire il nostro la nostra bella chiacchierata questo podcast Credi Crea su iTunes e possono ovviamente condividere con amici e conoscenti interessati agli argomenti che abbiamo discusso carissimi ci vediamo alla prossima state bene grazie a tutti